Welcome to Vantins video raga, oggi siamo a Fai della Paganella e finalmente torna dopo un anno Scegliete voi due vado, come funziona questo format per chi non l'ha mai visto Voi scegliete che sentiero farmi fare, se la Easy Rider o la Peter Pan sono i due nomi dei sentieri di Fai E praticamente ogni fine di un sentiero vi metto due opzioni, la A e la B e voi scegliete quale fare Ovviamente prima ve lo spiego E basta adesso ci andiamo per il primo sentiero Bella Questa c'è in tutte e due le piste si parte dalla Paganella Che è la prima parte e dopo come vedete nel cartello si dividono Quindi adesso parliamo subito per di qua Qua c'è prima una parte bella veloce della Peter Sono tanti tossi che si possono saltare, doppiare, fare un po' quello che si vuole Come vedete io li salto, certi schiacci dipende un po' dallo stile di riding Poi c'è questa balsa pianura qua Un mini saltino Che è ricco un po' di merda Adesso raga potete scegliere voi se fare l'Easy Rider che è di là o la Peter Pan Peter Pan ha più ride e anche di salti, avete l'Easy Rider è un po' più scassatina Scegliete la A se volete a Peter Pan e B se volete l'Easy Rider E basta, adesso scegliete I sit and wonder about the times that it made sense But nowadays I don't worry about what's past tense My younger days I used to hang around with mad friends If we just fell out I don't really know what happened